Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi in questo video voglio darvi qualche consiglio generale sui motori che potrà esservi utile in due casi nel primo caso se doveste acquistare un motore usato ma io sconsiglio vivamente l'acquisto di motori usati, personalmente penso che potrei acquistare un motore usato solo da mio fratello ma sono figlio unico ok non potrei acquistare mai un motore usato quindi ragazzi state attenti anzi attentissimi e comprate motori a scoppio usati solo da chi vi fidate veramente questo video però potrebbe essere utile anche per capire lo stato di usura del vostro motore per capire se l'avete trattato bene per capire a che punto della sua esistenza esso si trovi quindi per capire quanto ancora manca prima di doverlo accantonare oppure procedere alla sostituzione di qualche pezzo chiaramente ragazzi cominciamo il video dopo la sigla eccoci qua ragazzi allora tutto quello che dirò in questo video deriva dalla mia esperienza personale questi sono i metodi che utilizzo io e che ho imparato e accumulato in vent'anni di esperienza ovviamente non sono un motorista non credo neanche di saperne lontanamente quanto un motorista ma posso dirvi che con questi piccoli trucchetti con queste piccole attenzioni sono riuscito sempre ad avere motori performanti a capire quando era ora di lasciarli andare iniziamo col dire che la prima cosa che tutti fanno quando prendano in mano un motore usato di qualcuno è girare il volano per sentire la compressione questa è un'operazione ragazzi che raramente potrà darvi informazioni valide a meno che voi non siate profondi conoscitori della materia perché se io riempio il motore di after run e ce ne metto veramente tanto ovviamente il motore risulta essere più duro quindi capite bene che la compressione sentita a freddo e magari con tanto olio after run all'interno del cilindro non ha senso che cosa potete fare già da motore montato ovviamente quando prendete un motore usato non sempre chi ve lo vende ve lo fa aprire e smontare eccetera eccetera ma ragazzi già dall'esterno si capiscono veramente tante cose dovete guardare innanzitutto la testa già il colore della testata vi dice veramente tanto sul motore perché se avete una testa molto sbiadita quindi non delle colorazioni vivide come quando il motore esce dalla fabbrica o comunque che ci si avvicina molto quel motore sicuramente avrà scaldato tantissimo quindi non sarà andato magro o sarà andato lungo di rapporti qualcosa sarà sicuramente successo guardate ragazzi nell'esempio che vi sto ponendo che differenza c'è tra un motore che ha subito delle scaldate e un motore invece che è perfetto quindi ragazzi ricordatevi primo punto da tenere d'occhio è la testa un'altra componente che può darvi numerose informazioni sulla vita del motore è l'albero ragazzi considerate che se vedete alberi neri come ormai la maggior parte dei motori di alta competizione ha sono alberi trattati al dlc quindi c'è un trattamento particolare che ne favorisce la scorrevolezza e soprattutto ne riduce drasticamente l'usura quindi guardando in prossimità del punto dove alloggiano i cuscinetti se vi accoggete che ci sono dei segni di usura in fondo all'albero possono essere successe due cose uno chi l'ha utilizzato precedentemente a corso con i cuscinetti bloccati sopra la campana e questo grave ma non gravissimo cioè non è un grande danno per il motore la seconda ipotesi è quella che il motore ha fatto veramente tanti litri perché per segnare un albero in dlc ci vuole veramente tanto impegno quindi testata albero motore la terza cosa è che è praticamente la più importante da vedere è guardare all'interno dello scarico la colorazione del pistone qua c'è da fare una premessa non tutte le miscele colorano il motore ma ormai ragazzi la maggior parte lo fanno e sono anche le miscele migliori perché la colorazione che c'è sul mantello del pistone quindi in prossimità dello scarico crea quella chiusura che alla fine fa funzionare il motore meglio quindi ragazzi privilegiate miscele che colorano il pistone allora dopo il rodaggio già quindi dopo due litri due litri e mezzo di miscela il pistone comincia a colorarsi ma assume una colorazione più dorata che scura mentre dai 5 ai 10 litri di utilizzo dovrebbe formarsi la colorazione sul pistone e quindi conseguentemente anche sul sottotesta e quindi conseguentemente anche su tutte le componenti interne del motore la colorazione avviene soltanto se il motore gira a temperature accettabili quindi dagli 80 gradi in su se girate grassissime o troppo freddi il motore non si colorerà ad ogni modo la colorazione sul pistone non appena il motore nuovo quindi appena terminato il rodaggio sarà circa sotto le righe alte del pistone come vedete nelle immagini che vi stanno scorrendo la fine di quel nero dove comincia la colorazione normale del pistone determina il punto di chiusura del motore quindi è chiaro che quando un motore nuovo il pistone chiuderà molto in alto col passare dei litri e quindi con l'utilizzo del motore questa parte colorata quindi il nero che c'è sul pistone scenderà progressivamente fino ad andare all'incirca poco sopra il bottone d'aggancio della biella in questo punto siamo all'ottimale del motore quindi il motore è diciamo nella sua parte centrale di vita che poi è quella più lunga successivamente scenderà ancora al di sotto del perno di ancoraggio superiore della biella quando la colorazione scende al di sotto della metà del perno di ancoraggio della biella il motore è si dice al canto del cigno quindi è proprio agli ultimi gli ultimi istanti di vita si rischia quindi di rompere il motore ed è consigliabile rifare l'accoppiamento c'è da dire anche che il motore varia le sue caratteristiche in base a dove si trova il punto di chiusura quindi quando il motore è nuovo il punto di chiusura è molto alto sul pistone avremo un motore che avrà meno giri in alto ma più potenza ai bassi regimi mentre via via che il nero scende avremo più giri in alto minori consumi e minor potenza ai bassi regimi voi riuscite a vedere chiaramente questa colorazione dal foro dello scarico smontando il motore ovviamente sia una situazione più chiara dal foro dello scarico riuscite a vedere anche se ci sono dei grippaggi sul mantello lato posteriore del pistone quindi delle righe longitudinali che implicano dei grippaggi e anche in questo caso ragazzi state molto attenti perché se ci sono dei grippaggi chiaramente quando il pistone va in chiusura da lì ci sarà un trafilaggio e il motore non renderà come si deve sempre per quanto riguarda la parte esterna del motore possiamo guardare dove alloggiano le molle di ancoraggio del collettore al carter con andare avanti del tempo e quindi con l'utilizzo del motore le molle segneranno il carter quindi se vedete dei segni evidenti sul carter delle molle della marmitta possono esserci due opzioni la prima opzione è che chi l'ha utilizzato precedentemente usa delle molle strettissime ma praticamente sono quasi tutte uguali ormai le molle in commercio e poche stringano più del dovuto il collettore al carter la seconda ipotesi è che quel motore ha girato tanto questo è ciò che potete guardare dal lato esterno cosa manca per valutare bene un motore ovviamente smontandolo si riesce a vedere anche lo stato del sottotesta il sottotesta potrebbe avere un'ottima colorazione come state vedendo in questo momento oppure essere sabbiato come vedete in questa immagine vedete che è tutta puntinata e non è liscia la superficie di colorazione in questo caso può essere successo che andando magri o comunque scaldando molto una candela si è bruciata si è staccato il filamento dall'interno ed è finito all'interno della camera di scoppio ovviamente il motore si spenge immediatamente ma se succede su un rettilineo o comunque mentre era alti i regimi chiaramente i movimenti del pistone frantumano in mille pezzi il filamento di platino e vanno a creare delle micro puntinature sulla testa in questo caso ragazzi non è grave il fatto che sia il sottotesta sabbiato perché con della lana di lioccia si riesce a ripristinare senza problemi bisogna però vedere se questo filamento ha creato ulteriori danni all'interno del motore un'altra cosa ragazzi da non sottovalutare quando riuscite ad aprire un motore è guardare lo stato dei cuscinetti vi sconsiglio di smontarli sentite benissimo infilando un dito nel cartere e premendo sopra la parte interna del cuscinetto facendolo scorrere sentite benissimo se il cuscinetto gratta o gira libero questo vale per il cuscinetto davanti che ha un costo inferiore e soprattutto per il cuscinetto di banco che è un cuscinetto importantissimo del motore nella maggior parte dei motori è ceramico e ha un costo nettamente superiore tralascio volutamente tutta la parte di usura biella perché per misurare bene l'usura della biella ci vorrebbe un micrometro comunque potete infilare la biella nell'albero e provare a muoverla a farla oscillare per vedere quanto gioco ha ma se non conoscete i termini di paragone di una biella stretta rispetto alla biella con gioco non potete accorgervi di niente quindi ragazzi concludendo da oggi saprete valutare l'usura del vostro motore e nell'ipotesi che acquistiate un motore usato saprete valutare il vostro acquisto con questo video spero di esservi rimasto utile mettete tantissimi like se vi piacciono video di questo tipo con consigli in questo ambito e condividete il video per farlo vedere anche ai vostri amici oppure a chi vi vuole vendere un motore tirandovi la sola e noi quando ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video ciao